2 biglietti per la sala 1, grazie. Un biglietto, scusate, mi sono distratta. Sola, non c'è problema. Pietro ha già un figlio, un figlio suo, non se ne senta. Ma pure questo è figlio suo. Io non sapevo che questa città mi fregava. E che mo' la colpa è di Napoli, pure con te. Non si fanno i figli da vecchia, come faccio? E' nata al sesto mese di gestazione. Ecco, sua figlia. Vorrei dichiarare la nascita di mia figlia. Devi riempire questo modulo, documenti della madre e del padre. No, il padre, no, non c'è. Edempia quest'atto, questo è per le nascite illegittime. Non è illegittima, io sono la madre. Ridicola, mi sono sentita così. Ma mi ha sposto, non fa da niente. Una spesa, non l'ha mai fatto. Come sembra la madre dal vetro? Te lo posso dire, Maria. È proprio uno straccio. Maria, non è che ci siete. Scusa, scusa. Che cosa fate? Lavorate? Sì, insegno alle scuole serali. Ah, sfido, professoressa. Che facciamo con questo foglio? Che vogliamo? La strappiamo. Eh no, professoressa. Ma non mi dica di mantenere la calma, eh? Mantenite la calma, vestruite. No, Gaetano, la calma la perdo. Ma almeno lei può dirmi come sta mia figlia. E ancora presto. Mi parlerò a fare le pappe, i bagnetti. La porterò al giardino, la farò giocare tutto il giorno. Farò tutto, Fabrizio. Io ce la posso fare, io ce la voglio fare. Fabrizio oggi le tolgono i tubi. Tutto dipende da oggi, tutto. Where is my love?